buongiorno a tutti ragazzi eccoci qui ritrovando sul canale per 1937 sono simone e ragazzi rullo di tamburi nighitarian nuovo giocatore della roma l'esterno di attacco che serviva alla s e roma per fortuna il 29enne armeno che ha giocato in premier league tra arsenal united anche in bundesliga ottima esperienza nel borussia dortmund giocatore che a me piace molto sicuramente fa il titolare clivert se ne va in panca dopo le partite contro la lassie e il genoa che ha fatto un pa da tracche e quindi ragazzi anche kalinic kalinic è 30 31enne o 30enne croato che viene dall'atletico sempre con formula del prestito come mkhitaryan smoling come quelli che già abbiamo detto però dai abbiamo chiuso il mercato diciamo in bellezza e un do un bell'otto otto e mezzo do anche otto e mezzo perché grande petrachi petrachimo vabbè non mi ricordo niente ha mandato via tutti gli esuberi partendo da olsen e finendo a gonalons ragazzi ha fatto un lavorone lavorone del ds della roma e gli altri trasferimenti che stavo vedendo nell'ultime due ore di calcio mercato grazie a sport italia grandi che sto vedendo ancora in tv però va bene verdi all'ultimo gli ultimi dieci secondi ha chiuso per la trattativa con il torino arriva con una formula di riscatto comunque e anche madri al brescia e babacar a lecce che secondo me babacar lavadula questo duo di attacco potrebbe fare molto bene e anche che il cai a rigeno a scambio cerri faville non si è più fatto e molti acquisti molti acquisti molti trasferimenti e anche la cosa più importante il calcio mercato dell'inter i cardi se ne va al paris saint germain credo che ci sarà un riscatto di 70 milioni presse un diritto di riscatto a 70 milioni dell'inter al paris saint germain all'inter va bene l'inter per il momento si è elevato a vandanara speriamo che si troverà bene lì a parigi con nemar vabbè bappe infortunato cavani non si sa quello che deve fa e speriamo che ci rimane perché ha fatto una confusione sui social sempre ha parlato e stai cardi a me me ne frega niente mi frega dalla roma no vabbè sto scherzando però vabbè comunque ragazzi la roma il mercato della roma si è salvato con questo grandissimo esterno la difesa a parer mio diciamo una giustatina gliel'abbiamo data quindi ragazzi voto complessivo già l'ho detto e quindi per il video di oggi è tutto un piccolo video così per parlare di tutti i trasferimenti della serie a lasciate un bel like un commento seguite su instagram lo so un trattino basso vitton iscrivetevi attivate la campanella per il video di oggi è tutto e noi ci vediamo domani con un prossimo video ciao